Ma innanzitutto non sono d'accordo sul presentare Draghi come un benefattore dell'umanità, il ruolo che ha svolto come banchiere centrale è stato quello di gestire le politiche di austerity e di consigliare ai governi europei misure neoliberiste che hanno aumentato la precarizzazione del lavoro, diminuito il peso dello Stato sociale. Draghi ha parlato stamattina di voci marginali, io posso rivendicare di appartenere a quella minoranza che nell'ultimo trentennio ha criticato queste politiche neoliberiste. Sento parlare di famiglia, quando abbiamo delle politiche economiche che producono alta disoccupazione, voglio ricordare che nel nostro paese la disoccupazione giovanile supera il 30%, politiche che hanno prodotto il fatto che dall'Italia se ne sono andati milioni di persone nell'ultimo ventennio, basta vedere il registro degli italiani all'estero. Abbiamo avuto numeri che sono quelli del dopoguerra, cioè dopo i bombardamenti quando l'Italia era distrutto, ma soprattutto abbiamo una marea di giovani che fanno soltanto lavori precari e che quindi non hanno la possibilità di progettare futuro. Io sono un figlio di operaio, ma mio padre aveva un contratto stabile, ha potuto fare un mutuo, ha potuto crescere una famiglia, mandare i figli all'università. Questa possibilità è negata più di una generazione in Italia dalle riforme che hanno voluto Draghi come partiti di centrodestra e di centrosinistra. Da questo punto di vista io non vedo un'inversione oggi, nel PNR non c'è un piano per il lavoro e non c'è un piano per la ricostruzione dello Stato sociale del nostro paese, quindi sono preoccupato sulla casa. No, no, nel senso, siccome adesso citavamo il lavoro, che è un tema appunto enorme. Ma come non ci sono? Aspetta, 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 però facciamo perché poi nella vita bisogna avere anche... Sono direttive fondamentali il PNR. Aspetta, aspetta, arrivo, posso fare la domanda? Sì, però non è che uno può dire le cose a caso, perché insomma... Poi replichi, io chiedo ad Acerbo, perché così uno ha dei dati concreti in mano. Qual è la vostra proposta?